Liceo classico e artistico in un'unica struttura. La proposta è della Mesa Municipal dell'Alghè. Il portavoce dell'Associazione Carlo Secchi ha inviato una lettera agli amministratori comunali evidenziando come i lavori in corso nel complesso San Michele e Lucqualtè hanno messo ancora più in evidenza i problemi di spazio della Liceo Manno. Secondo Secchi, essendo il classico e l'artistico sotto la stessa amministrazione scolastica, si potrebbe pensare ad un unico edificio. La Mesa Municipal propone anche che l'attuale Istituto d'Arte di Maria Pia venga destinato ad albergo.